Il colpo era stato messo a segno ai monopoli di Stato di Via Umbria la notte del 9 maggio scorso. Una spaccata, poi i ladri erano entrati nei locali, trafugando un ingente quantitativo di sigarette, decine di scatoloni per un valore di diverse migliaia di euro. Una banda di professionisti, un blitz concluso in pochi minuti con i sistemi d'allarme neutralizzati. Compiuta la razzia, i ladri hanno atteso alcuni giorni prima di lasciare la città e di smistare il bottino sui canali del contrabbando. E per farlo hanno scelto la scorsa notte. Peccato per loro che sull'autostrada della Cisa, una volta imboccato il casello di Pontetaro intorno alle 23, c'erano ad attendergli gli agenti della polizia stradale. Il furgone, con un carico di quasi 6.000 pacchetti di sigarette, valore intorno ai 30.000 euro, è stato intercettato in prossimità del casello di Pontremoli. A bordo 5 persone. Il conducente del mezzo non si è fermato all'alte della pattuglia. Così è cominciato un breve inseguimento. Senza via di scampo, l'autista ha arrestato la marcia in prossimità di una rampa d'uscita della A15. A quel punto i malviventi si sono dileguati nella vegetazione a lato della carreggiata, mentre il furgone, abbandonato in salita, senza freno e marce inserite, ha rischiato di finire senza guida sull'autostrada. A bloccarlo è stata un'auto della polizia che si è frapposta per evitare il peggio. Le ricerche dei fuggitivi sono scattate immediatamente. Poco dopo, gli agenti hanno fermato un bosniaco di 28 anni, Sferovi Zudija, pregiudicato per reati contro il patrimonio, arrestato e tradotto in carcere. Mentre proseguono le ricerche dei complici, che almeno per ora non si trovano.